Isaac Newton sosteneva che camminiamo sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto. Nei miei oltre trent'anni in giro per il mondo rappresentando l'Italia, ho sempre cercato lo sguardo di Galileo Galilei che del mente mi guardava da quello scranno che ancora oggi incombe su studenti intimiditi nel Palazzo del Bo. Ricordi che rimandano a secoli di pensiero e a lungo elenco di illustri personalità uscite allora come oggi da quel portone dove si allinano i colleghi che con un calcio nel sedere ti spingono nel mondo reale nel quale dovrai cavartela da sola. Nel mio caso mi sono trovato a confrontarmi con realtà e genti diverse con le quali ho dovuto ricorrere a quella scatola degli attrezzi che chiamiamo diplomazia. In ogni momento ho avuto la consapevolezza che gli strumenti di lavoro me li hanno forniti quei quattro anni indimenticabili che ho trascorso in Via del Santo. Anni nei quali ho imparato tanto e ho capito quale sarebbe stata la mia strada. Gusto per il sapere, capacità di superare ostacoli non sempre facili, scoperta di discipline fino a quel momento a me sconosciute e che mi hanno aperto nuovi orizzonti. Il tutto in un ambiente stimolante e contraddistinto da un confronto continuo. Tanti nuovi incontri, compreso quello con una ragazza con un montone bianco che anni dopo sarebbe diventata mia moglie. Devo molto all'Università di Padova e mi fa piacere che ex-alunni si siano riuniti per tenere viva una comunità che anche dopo gli anni di frequenza rimane unita da un'esperienza straordinaria e da valori che non appossiscono come l'alloro della corona che indossiamo il giorno della laurea. Molti di quegli ex-studenti vivono e lavorano qui negli Stati Uniti e si fanno onore al cospetto di colleghi laureati in prestigiose università americane. È la migliore conferma dell'altissimo livello dell'insegnamento e di un metodo che sa coniugare tradizione e innovazione, forte radicamento nella realtà locale e capacità di guardare al mondo. Dal 1222 la nostra Università ha dato molto alla cultura italiana. È ora di restituire un po' del nostro tempo e delle nostre energie per sostenere un autoneo prestigioso che dà lustro alla città di Padova e che figura tra le eccellenze accademiche a livello mondiale. Io ci sono.